Siamo notati Gesù e Maria. Stiamo colgendo grandi passi verso la Domenica delle Palme, anche la Domenica di Passione, la Settimana Santa, gli ultimi giorni della vita del Reino di Gesù e i Vangeli, quelli appunto di San Giovanni, ci narrano proprio gli ultimi passi, gli ultimi tempi della vita terrena di Gesù, in cui la persecuzione contro di lui andò assumendo dei toni sempre più crescenti. Qui vediamo che dovette fuggire al di là del Giordano, al luogo dove prima Giovanni battezzava, perché non essendo ancora ora, doveva in qualche modo mettere in salto la sua vita per impedire che la sua missione finisse prima del tempo, cioè prima dell'ora stabilita dal Padre. Questo è un tema fondamentale del Padre di San Giovanni. Fino a quando non è giunta l'ora, l'ora della passione, l'ora della croce, l'ora in cui ci sarebbe stata l'apparente vittoria delle tenebre sulla luce, del male sul bene, a Gesù nessuno gli ha torto un capello. Poi, con il consenso volontario di Gesù che si è offerto la sua passione, è successo quello che tutti sappiamo essere successo. Quindi oggi ancora, una volta, la liturgia si vuole come tema di attenzione quello del giusto che viene odiato. Abbiamo appena fatto una bella via crucis dove diverse meditazioni ci ricordavano questo punto della vita cristiana. Geremia, nella prima lettura, ci ha lasciato dei tratti molto belli relativamente a questo tema, soprattutto un paio di versetti su cui brevemente meditiamo prima di concludere. Il Signore abbia chiaro come un prode valoroso, per questo i miei perseguitori cadranno e non potranno evadere. Saranno molto confusi perché non riusciranno. La loro vergogna sarà eterna e incancellabile. Abbiamo sentito alcune meditazioni della bella crucis precedente. In questo mondo, a volte sembra che i buoni perdano, falliscano, siano vinti, e i cattivi rinunfi. Ma quello che sembra è diverso da quello che è, perché agli occhi di Dio non è così. E il mistero della croce ci dice proprio quando sembra che apre prevalso il male è esattamente quello il momento in cui comincia la riscossa del bene. E poi c'è un'altra cosa molto importante perché noi abbiamo molte volte la tentazione di difenderci. di ribellarci molto al male, di chiedere in qualche modo giustizia. Ognuno di noi, ecco, sa proprio cuore quello che ha vissuto durante la vita terrena. Le esperienze di questo genere fanno molto male. Cosa fa un figlio di Dio? Le parole di Geremia. Signore, Dio degli eserciti che provi il giusto, attenzione, escludi il cuore e la mente, posso io vedere la tua vendetta sugli essi puri che a te ho affidato la mia causa. Qui vendetta non è che Geremia chiede a Dio di vendicarsi. Però se c'è un'ingiustizia in grossa quanto una causa, quella ingiustizia dovrà essere prima o poi smascherata. Quindi il giusto affida la sua causa a Dio. Non si fa giustizia da solo. Né da solo e nemmeno cercare la giustizia dei tuoi uomini. Ma rimette la propria causa a Dio. Nella consapevolezza che la prova è divina volontà perché attraverso la prova vengono scrutati, bellissimo questo termine, il cuore e la mente. Il tema di Dio che scrutela il cuore e la mente è molto ricorrente nell'antico testamento. C'è anche uno stupendo sacro con quello che abbiamo proclamato che si chiama proprio Signore, tu mi scruti e mi conosci. Pensate proprio a questo termine scrutare. Cioè, non è che Dio non sa quello che c'è nel nostro cuore. Lui lo sa. Ma noi lo sappiamo quello che c'è nel nostro cuore. Cioè, nei momenti forti, nei momenti di prova, nei momenti di tripolazione, lì si vede quello che c'è. Se tu ci credi veramente oppure no. Se tu ti affidi veramente oppure no. Se tu sei capace di passare per vinto e affidare la tua causa al Signore oppure no. Ci sono i momenti che nella nostra esistenza ci sono dei momenti fondamentali in cui davvero rimaniamo da soli con il Signore e lì esce fuori quello che c'è nel nostro cuore. Cioè, se la nostra fede è una fede solida, forte, tenace, oppure se è la vicola, fiacca, debole, di facciata, esteriore, per quest'altra, non regge dinanzi alla prova. La prima la supera con la forza del Signore. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a vivere sempre in questo modo le nostre tripolazioni, le nostre prove e che ci prenda per mano comportandoci delicatamente e anche con tutta quanta la sua intercessione, assistenza e condizione verso questi giorni che, non mi stancherò di rivedere, sono i più santi del Torano liturgico e che chiediamo al Signore di farci vivere nella miglior maniera possibile. Siamo notati Gesù e Maria. Sempre siamo notati. Grazie a tutti.